Sono le filoni di Vitell, benvenuto al video relativo alla quinta puntata, alla quinta settimana della NWSL il campionato femminile e statunitense professionistico di calcio ragazzi partendo dalla partita che è stata sospesa al minuto 52 e a quanto pare questo è il risultato definitivo North Carolina in Corage batte Houston Dash fuori casa 1-0 partita sospesa alla metà praticamente North Carolina in Corage parte benissimo con un paio di chance e la seconda occasione creata arriva il primo e unico gol della gara con Caroline che sfrutta un ottimo cross di Williams e la brasiliana deve soltanto metterci il piede no in realtà non è il primo gol della partita perché viene annullato al VAR c'eravate cascati tutti quanti ma comunque il North Carolina in Corage prende possesso della gara e al minuto 32 ci mette la gamba Agliussi per il gol che condurrà appunto le ospite della vittoria stavolta il gol è netto e viene convalidato al 38esimo minuto si sveglia Houston Dash con Ebolin Selman ma il suo tiro a centrale poi poco dopo è anche sfortunata la squadra di casa con il tiro di Schmidt che termina sul palo con Murphy che nulla avrebbe potuto farci ultima occasione è il tiro cross di Williams che in questa partita ha creato molti grattaccapi alla retroguarda avversaria ma brava bravissima Jim Campbell a rispettire il tutto la partita però viene sospesa definitivamente e a quanto pare non si rigiocherà quindi vittoria per il North Carolina in Corage 1-0 ma secondo me fossi Houston Dash farei qualche ricorso Chicago Restarts 1, Washington Spirit 1, prima chance della partita c'è la Stevens calcio e punizione di prima, molto potente ma palla di poco alta poi ci sarà la risposta di Washington che inizia a ingranare prima di testa Metair ma bravissima lì scenario a bloccarla poi Washington passa in vantaggio su rigore segnato da Ashley Hatch e Harry Hatch e soltanto a sfiorare ma non a respingere il tutto il pallone che si infila alle sue spalle la risposta delle patroni di casa non tarda ad arrivare infatti poco dopo al minuto 32 c'è il pari con St. George 1-2 con Schlegel e St. George davanti all'estremo diventore avversario non può sbagliare ovvero l'estremo diventore avversario sarebbe Kingsbury al 42esimo minuto Washington vicinissimo al vantaggio con McKeown ma palla alta da pochi passi nella seconda frazione di gara anche Hatch di testa va vicinissimo al vantaggio al 53esimo minuto Chicago ci prova con St. George di nuovo ma tiro debole e centrale deviato da Kingsbury Washington Spirit domina diciamo le ultime fasi del match ma senza riuscire comunque a mettere la palla dentro quindi finisce così 1-1 Racing Louisville 2-2 primo tempo dove la squadra di casa come già è successo in passato con un bel vantaggio prima non a Paige Monahan con il suo primo god con la maglia di Louisville poi era il doppio con un tiro strepitoso dalla distanza della solida salata di Milo e nel bel mezzo ci mettiamo anche una traversa da tiro cross da parte di Carson Pickett quindi Racing Louisville che domina il primo tempo al 53esimo minuto nel secondo tempo Racing Louisville vuole il terzo gol lancio per Davis ma strepitoso all'uscita di Tules Joyce a bloccare il tutto al minuto 66 però la partita cambia Cady Land all'estremo dimensione di Racing Louisville sballa completamente l'uscita e frana su Jordan Whiteman che conquista un penalty che poi è meno rapino a non fallire a metterla dentro la partita si mette molto male per la squadra di casa per via anche dell'espulsione della seconda marcatrice di questa partita ovvero Savanna de Melo e ancora di più quando incassa il gol del pari cortesia di Jordan Whiteman ancora fondamentale per Speranziano Reign che quindi pareggia i conti 2 a 2 finisce così tra Racing Louisville e All Reigno San Diego 1 Orlando Prey 3 clamorosa disfatta per il San Diego Wave in casa contro l'ultima della classifica anche se sono proprio le padrone di casa a passare vantaggio poi le mezzo di Tonek per la corrente show che infila di prima intenzione Morehouse che nulla può poco dopo Brady va vicinissimo al gol che avrebbe potuto portare la vittoria al San Diego Wave ma salvataggio clamoroso sulla linea della difesa di Orlando e da quello del salvataggio cambia un po' tutto corner di Orlando Pride che lo sfrutta meraviglia con il colpo di testa di Michela Kloff e il raddoppio arriva poco dopo sempre nel primo tempo con un altro colpo di testa stavolta di Eli McChion McChion scusate incredibile ma vero vantaggio delle ospiti ma nella seconda frazione San Diego si fa pericoloso sempre con show ma stavolta il suo tocco è di poco al sessantottesimo minuto Orlando Pride chiude la gara con un bel destra nel crociare che buca Sheridan 3-1 Orlando clamoroso a show annulleranno anche un gol ma insomma risultato non sarebbe cambiato vittoria clamorosa per Orlando Pride Portland Tours 3 Angel City 3 partita fantastica Providence Park che si apre al minuto 10 con la giovane stella Alissa Thompson di Angel City che scarica un bel destra sul primo palo dove bella Bigsby non può arrivare 1-0 Angel City arriva la risposta delle padrone di casa con il destra di Morgan Weaver ma palla fuori anche se poco dopo penalty concesso a scuola di casa che con su guida non sbaglia e pareggia i conti nel secondo tempo sembra iniziare bene Angel City con il destra lato di poco di Emsley della scozzese ma Portland Tours riesce sempre comunque a trovare la vita il gol e lo dimostra di nuovo con Morgan Weaver Moultrie bellissima palla in mezzo una palla deliziosa per la corrente Weaver che è la più lesta ad anticipare tutti e mi interlare le spalle di Aracic poi per Angel City pareggia crossa in mezzo di testa Natale Quick a sbaglia porta e la infila dentro e sempre sul calcio per sale poco dopo altra rete per Angel City Judy Earth ci mette la testa e anticipa a tutti e la spedisce alle spalle di Bella Bixby portando in vantaggio Angel City ma Portland Tours non ci sta e sarà proprio Bella Bixby il portere del Portland Tours a metterla dentro con un tocco raffinato a pochissimi passi da linea di porta clamoroso clamoroso a tre pari Portland Tours si salva con lo suo estremo di vincere questa veramente soltanto le grandi squadre riescono a fare cose del genere Kansas City 2 Godam City 0 vittoria meritatissima di Kansas City che durante il primo tempo non è precisa e non riesce mai a bucare Abby Smith comunque autrice di un paio di ottimi interventi ma nel secondo tempo che la gara cambia con la doppietta di De Binga il grande acquisto della scuola di casa prima sfruttando una linea di Godam non perfetta da solo davanti a Smith non può sbagliare poi a sbagliare sarà proprio Smith che erra totalmente nell'uscita palle e mezzo che poi De Binga dopo qualche rimpallo di troppo spederà dentro a porta sguarnita con Smith che non riesce a tornare in tempo a difendere la prova a porta finisce così 2 a 0 Kansas City altra buonissima vittoria la classifica vede Porn and Thorns con 11 punti comunque in testa nonostante il pareggio di Kansas City Allerain 10 punti San Diego Wave ha perso quindi 9 punti poteva veramente arrivare al primo posto così come il Godam City ha 9 punti insieme a Washington Spirit ha 6 punti Houston Dash comunque rimane nella scia dei playoff Kansas City 6 attenzione a Kansas City si sta rifacendo vedere dopo 2 vittorie consecutive dopo 3 sconfitte consecutive North Carolina Correggio 6 punti 5 punteggio il City che ancora deve trovare la retta via diciamo così Resolubile che era partito bene ora si sta un po' perdendo 4 punti Chicago ReStars 4 Orlando Pride 3 la prima vittoria proprio contro lo San Diego diciamo che forse la più deludente al momento è il Chicago ReStars vederà lì penultima però sappiamo che alla fine l'assenza di Mel Swenson e di Mel Rui è veramente devastante sarà veramente devastante per questa squadra la sesta giornata della NWSL vedrà sabato 6 maggio alle ore 19 Washington Spirit San Diego questa sarà sicuramente uno dei big match della giornata perché insomma Washington Spirit abbiamo detto che a 9 punti e San Diego 9 entrambi 9 punti importantissimo restare lì in vetta Orlando Pride e Resolubile questa è una partita fondamentale per entrambe perché Orlando Pride potrebbe addirittura trovare la prima vittoria in casa sarebbe importantissimo questa partita si giocherà domenica 7 maggio alle ore 1 ovviamente ore italiane Norcanone Corregg e Paran Tornza per il Paran Tornza è nata da una partita fuori casa non facile non facile assolutamente Norcanone Corregg che vorrà vincere a tutti i costi Hollow Rain Houston Dash qui mi aspetto una vittoria sinceramente dell'Hall Rain Houston Dash che non è che stia giocando male ha perso una solo partita però diciamo a parte qualche pareggio di drop non ha fatto molto Chicago Restarts Gotham City deve ritrovare la vittoria dopo la sconfitta contro il Kansas City Chicago Restarts però deve assolutamente vincere deve assolutamente vincere e sarà una bella partita potrebbe anche però finire in pareggio e per concludere il posticipo Angel City Kansas City Current questa è una partita tra due squadre che apprezzo che però diciamo quest'anno stanno facendo un po' cilecca anche se poi ha iniziato da poco il campionato soprattutto Angel City Kansas City 6 Angel City 5 punti e quindi per restare lì sulla scena playoff o meglio per andare nella scena playoff per entrambi è fondamentale vincere questa partita quindi saranno tutte partite sono molto molto interessanti e secondo me vedremo anche del vero spettacolo ma in WSL vediamo sempre dello spettacolo e risultare anche glamorosi con questo è veramente tutto da manare filoni d'appuntamento ragazzi e alla prossima